Eccoci amici che siamo venuti qua in questo piccolo paradiso e oggi Alessandro toglie i raccogli polline dove abbiamo raccolto il nostro squisitissimo purissimo polline di castagno, quindi il polline monoflora e qua sono le fracoline di bosco e qua le nostre super apine in forma. Ecco i raccoglitori che sono sopra il petto delle armi e questi melali sono pieni di miele di castagno che in questi giorni verremo a raccogliere. Siamo riusciti quest'anno a produrre veramente finalmente un miele di castagno che l'anno scorso per motivi diciamo di stagione l'api non è riuscita a raccoglierlo. Però quest'anno siamo contenti, abbiamo l'api addosso, meglio che mi allontano, ecco sui capelli. E niente, tutto tutto benissimo, ciao dopo.